Hello everybody da Steffi Serra, il Dio vivente è in cielo e in terra, oggi 17 febbraio 2019, anno 42, della Messiani Chirua Double S, rinnovamento in Santo Spirito. E quindi, ripeto, per noi il governo non c'è più, un governo di buona volontà, che ha proposto qualche iniziativa interessante, volenterosa, ma quindi non c'è più per persistere di genocidio al cospetto di Stefano Serra, Spirito Santo che è Dio, e delle anime bianche di tutto il paese e il mondo intero, perché è a tutt'oggi che sono perseguitate nel mondo intero, non solo in questa regione, non solo in Italia, è per incapacità di contrastare le mafie con tutto quello che ne consegue. In particolare, un paio di episodi degli ultimi dieci giorni, durante la visita medica per le graduatorie agevolate, alle quali mi sono interessato da pochi mesi, visto che in dieci anni, me l'hanno detto solo a luglio, e quindi c'erano i soliti terroristi, in particolare uno, di cui ho il video e la foto, che cercava di terrorizzare i membri della commissione. Ho dovuto chiamare la security. Hanno cercato in modo infame di provocarmi un'ulteriore TSO, e quindi sempre terrorizzando i miei familiari e organizzandomi nell'ambiente in cui vivo una situazione insostenibile. Chiariremo poi. Per fortuna io sono in condizioni stabili e ho tutti i certificati e per fortuna dopo dieci anni ho l'avvocato, quindi il legale, col gratuito patrocinio. Dopo oltre dieci anni ricordo che in oltre quindici anni mi hanno impedito di avere un legale terrorizzando continuamente chi contattavo. durante il colloquio con l'assistente sociale ho dovuto assistere a questo gesto sappiamo dei siciliani più più il gesto dell'estorsione da parte dell'assistente sociale incredibile. quindi i gesti terroristici persino dentro la chiesa dove vado a proporre di domenica al Padre Nostro in catena li avevo già descritti lo stalking organizzato che continua nei posti pubblici lo ripeto ancora è nella chiesa dei mormoni dove vado per un corso d'inglese per la quinta volta di seguito che assistevo ai soliti gesti terroristici i soliti gesti terroristici ho dovuto fare video e foto e ovviamente redarguire durante la lezione i due terroristi subendo un'aggressione da questa persona ogni volta me la cavo per miracolo da queste aggressioni due telefonate registrate ai carabinieri e alla security due volte la polizia mi chiude il telefono in faccia nell'emergenza non capitava da parecchio abbiamo detto la macelleria mobile che si avvicina nella mia via legna ad ardere altre minacce diciamo difficilissimo tutelare la mia persona i miei cari e i miei interessi economici non mi fanno gestire la chiesa dello spirito santo né il gruppo del rinnovamento dove ogni volta che vado ovviamente sono paralizzati dalla paura e non si può fare neanche un aperitivo e neanche fermarsi a discutere un po' l'altro ieri quindi alla caserma dei carabinieri vedo il carabinieri mi imbatto nel carabiniere campano che è ovviamente gravemente irrispettoso della mia persona è provocatorio mi impedisce di presentare denuncia contro i due terroristi della chiesa dei mormoni di cui ho descritto prima nonostante avessi foto evidenti con la mano sulla bocca è sul collo in questa maniera qua video e foto più che evidenti con la targa della macchina me l'ha impedito questo a me che sono dio e figuratevi le anime bianche che cosa devono sopportare sicuramente neanche si avvicinano a provare a denunciare perché è impossibile già quando sono andato io c'era questo quest'uomo verso le sete quest'uomo sui 40 anni che ovviamente cercava di terrorizzare i carabinieri il sabato ho chiamato il Quirinale per lamentarmi di questa situazione gravissima visto che Presidenza e Consiglio mi impediscono di parlare con i responsabili Salvini l'ho scomunicato per noi è sollevato dall'incarico di quello non mi va di parlare e quindi mi hanno ricordato che il Quirinale nel weekend è chiuso e quindi non c'è nessuno che lavora lì nel weekend e gli ho detto è nell'emergenza c'è in una situazione gravissima devo come al solito rivolgermi a paesi esteri perché l'Italia è questa e mi ha detto chiami il numero dell'emergenza mi ha detto e io gli ho ripetuto polizia mi ha chiuso due volte il telefono in faccia i carabinieri mi impediscono di denunciare questa è la situazione in questa città non è impossibile ma non fa e quando vedete alcune ragazze che si avvicinano o comunque sono nei posti quindi ragazze e ragazzi e tutti non possono parlare non possono ascoltare non possono scrivere non possono leggere quello che scrivo io non possono darmi un indirizzo né farmi entrare nelle macchine o in casa e quindi non si può fare un aperitivo ovviamente e quindi è impossibile in una situazione dove provocano continuamente in tutti i posti pubblici e quindi le anime bianche sono schiavi di questi massoni mafiosi che li paralizzano dal terrore impedendogli di parlare e loro fanno continuamente questo terrorismo psicologico con queste parole è terrorismo gestuale questo al 17 febbraio 2019 è a tutt'oggi la situazione io ho fatto dei miglioramenti molto importanti non trovo il tempo per per trasferirmi perché lo so che il problema è qua volevo dire per ultimo che per quanto riguarda la TAV per me ho pregato parecchio per me è un'aberrazione risparmiare mezz'ora di tempo spaccando una montagna e rovinando un ecosistema intero per me è un'aberrazione comunque è giusto fare un sondaggio molto serio molto serio per sapere il parere favorevole o contrario dell'Italia e dell'Europa visto che poi è coinvolta tutta l'Europa per me ci sono anche parecchie altre soluzioni per quanto riguarda i provvedimenti urgenti di cui avevo parlato nel precedente video da fare per l'Italia e per l'Europa della quale a maggio ci sono le elezioni e noi abbiamo intenzione di proporci seriamente pur dovendo mantenere gli impegni io con l'America che mi ha rinnovato la fiducia è sacrosanto quindi aumentare le pensioni minime per i disabili io ho delle fortune di avere dei giardini e quindi di avere parecchie risorse c'è chi ovviamente poveracci con 270 euro al mese non ti compri neanche il cibo e quindi quello è sacrosanto il rendito di cittadinanza va valutato bene gli interventi molto molto urgenti sono come al solito sulla sicurezza e quindi i tribunali onestamente per quanto riguarda la giustizia i tribunali è un discorso a parte per noi la giurisdizione in Italia è sospesa c'è il mio tribunale dello Spirito Santo ho ho incaricato alcune persone in maniera ufficiosa mi dà fastidio anche parlarne il tribunale qui locale praticamente ha la funzione di perseguitare la mia persona col giudice tutelare e col con la psichiatria in questi 15 anni e poi di e le anime bianche diciamo che poi mi sbilancio sono curioso di vedere i dati vedremo i dati altri provvedimenti il provvedimento urgentissimo è quello di finanziare oltre a tutelare finanziare le anime bianche che soprattutto in questi sette anni hanno subito un genocidio locale mondiale in Italia in particolar modo sono stati costretti a emigrare credo a migliaia a milioni e quindi questa è la priorità soprattutto quelli del sud dove c'è una situazione insostenibile come qua diciamo che se non riesce a emigrare la vita lì è impossibile è un'Italia che diciamo spaccata in due non può reggere il passo con l'Europa e col mondo intero è facilmente comprensibile da chiunque ci aggiorniamo in settimana sperando che i valorosi delle istituzioni mi risolvano finalmente questa situazione per il bene di tutti perché poi la salvezza di Dio riguarda tutti dico un'ultima cosa con stefi le malattie e le sofferenze se non proprio si guariscono si alleviano molto fino alla guarigione e non e si evitano e si evitano le catastrofi naturali e altro mentre con gli altri e quindi avete visto che cosa si rischia che tutto si rischia basterebbe solo questo ci aggiorniamo nei prossimi video buona settimana agli Aventi Fede grazie